Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, sono Tony Gamer di Sattacazzi. Oggi vi spiego come aprire questa mega porta incantata. Quindi non ci resta che chiamare il nostro cavalluccio piccolino, la capretta, e andare in questo punto. Vabbè, non mi resta che selezionare premendo A, ecco qua che metto il segnale. E non ci resta che farci un bel viaggetto, ma non preoccupatevi, il video non sarà noiosissimo perché ho velocizzato questa parte. Se no, eh, ci mettevo ore. Proseguendo da questa parte, guardate un po' come ho velocizzato per non mi ricordo quanto. Andare sempre dritti, dritti, dritti. Eccolo, ah, eccolo là, eccolo là, come potete vedere, eccolo là, il nostro rettile gigante di colore blu. Quindi fate piano e non svegliatelo, eh, fate come me. E poi non funziona, eh già, non funziona questo trucchetto, però è un po' rimbecillito perché guardate un po' cosa fa. Ma, gioco con lui adesso, guardate, cioè guardate, non si gira neanche destra, sinistra, destra, sinistra, vabbè, non mi resta che andare in quel punto di salvataggio e scappare. Questo trucchetto è un po' ritardato. Qui mi sono incastrato, saltiamo. Mi sa che mi ha visto, visto che ha un occhio sul lato destro, si mi ha visto. Bel trago, veramente fatto molto bene questo trago. Vabbè, torniamo a noi e apriamo questa porta. Questa porta ci porterà dall'altra parte, quindi io non faccio spoiler, quindi l'apro direttamente. Non so come si apre, aspetta, perché questi che lasciano messaggi mi fanno confondere. Eccolo, qua esamina il sigillo. E siamo arrivati. Cioè, era facile sta cosa. Eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua, come potete vedere. Però a destra c'è un'altra porta, quindi dovete sempre usare questa chiave. Mi raccomando, non perdetela, perché vi servirà. Quindi, grazie a tutti per questa visione e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!